No, benedì, San Giuseppe è il giorno del papà. Benedì, quando facciamo il latte. Eh, non lo so. Mamma, su, qui c'è te? Oggi è il giorno, mamma, beve. Uh, uh, uh. Isabella. Isabella. Guarda che il bocco si mangia, che stai per due cipolle. Perché se no, qua mangi tutto. Oggi è bella, c'è mara, ma c'è la delle nuvole. Ha, 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 ha. Finissi una, sai, come va giù? No, no, non vuole tutto. Ok. Anche due, tu non puoi mangiare. No, no. C'è lì, un bai, io, mamma è da l'oraio. Eh, adesso, mamma, c'è l'oraio. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Come here. Hello Jenny, how are you? How are you? How are you, Dad? Ok, thank you, you. Alex, come here. It's all right, come here. Hello. Oh, Bisnona. Give Bisnona kissy. Hello. Oh, Nanny. Oh, I thought you could. Bisnona, give Nanny kissy. How are you? How are you? Jenny, how are you? Oh, it's very hot. What's very hot? No, no, no. Nanny, come here. Nanny, come here. All right. How are you? Nanny, come here. Nanny, you okay? Eh, no bad. What's up? Oh, Bunny. 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 Oh, Gippies, no Nanny kissy. Yeah. My wishes. Oh. Oh. Oh, is this. Bunny. Oh, look at that. Oh, is Isabella. Oh, that's Bunny. That's Bunny. Yeah. 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 I think I'm going to go in here. Go, yeah, wait. Could you, I'm going to put the coat here? Yeah. Put the coat. He's got a bag. Bella, Bella. Bella. Can you give one of them? You've got a coat here. What's your coat here? What's the coat here? Choose what! Yeah. What is this thing? I saw pancakes. And what is mine? Right. It's Sunday. oggi siamo venuti con i loro bianchi e i loro mabili i loro green grandparents ciao wanted a fare un po' di 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 le bianchi per ogni po' di un 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 po' I already unzipped it. Right. No, I got the water there in the kitchen. Ok. I'll get it in the back. All the best. Have a good Mother's Day, good beginnings. This year, which starts apparently on the 1st of England. Ought to be in a several days. Come here. Oh, no need. So our Timena called today. And I just saw it on the Facebook account. Because there is Luisa's and Andrew's first wedding anniversary. What is it? Ah, good day. No, good day. San Giuseppe. The day of Papa. Good day. Good day. I don't know. It's the 19th. Cheers. Happy Father's Day and Mother's Day. Good morning! 15 or 14? 14. 16. 15. 15. andiamo giovedì a fare un plazzo. Mamma, oggi è giorno la mamma beve. Isabella! Isabella! Guarda che il boccolo si mangia. Sono le profe. Stim'ora la mamma beve. La trattata ci sono i miei. Gemma, non lo posso essere. Abbiamo fatto il due. C'è l'uomo che ti fa. La mamma è da dicerque. La mamma è la mia. Sì, quando vieni a Sicilia, puoi chiedere un po' di bocci, sì? E' un buon simile Guarda il mio Questa è un buon simile Un buon simile Un buon simile Guarda Daniel Non c'è Ora vediamo le altre due dottie Ah! Ah ora vediamo due loro Oh dove sono andate oh guardiamo con la camera e poi vediamo la foto 3, 2 ok Cone Siete un conetto è un po' 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 un Non è che cuore a gani sta facendo te, eh? Papà, c'è la patate? E voi, bevi qui. Non, non. Alex, lo patate? Non, non. È tutto per fare money. Ok, mangiamo. Ok, buon figlio. Ma due figli, mamma? Ma sedia, se non c'è un secondo, non c'è un secondo. Ok? Ok, buon figlio. È molto freddo. Ho un pollo. Ho un pollo. Ho un pollo. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Buongiorno, buongiorno. No, non. No, non, non. Non, non, non è il mio amore, il mio amore. No, non, non è il mio amore. Sì, siamo a casa. Sì. Sì, è il mio bambino. Sì, è lei. È lei. È i bambini, in Korea. È i bambini. Sì, 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 le bole. Sì, i bambini. Sì, i bambini. Sì, i bambini a kisser. Sì, i bambini. Sì. Ma, ma non bisognada tì, è Elena. Ni bambini. Ma ma prima? Sì, i bambini. Sì, hai bisogno di casa ora, Sì, 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 Sì. Sì, Sì.